Dario, stai ancora leggendo i capitoli di One Piece settimanalmente? Sì, 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 lo eseguo volentieri anche. Diciamo che One Piece che sto leggendo negli ultimi mesi, forse addirittura anni, è la stessa, cioè per me è sempre lo stesso punto, io ho sempre le stesse critiche su quel manga. Secondo me non cambierà comunque nella prossima saga e quindi è... basta. La penso sempre alla stessa maniera, non è che abbia cambiato posizione. Poi magari Oda improvvisamente cambia totalmente mood e con Warland ci... Cazzo ne so, ci stupisce con una saga assurda dove torna indietro nel tempo, ci fa queste super tavole ariose, bellissime, spaziose, con dialoghi incredibili, con bellissimi primi piani, con delle scene belle aperte, sfondi meravigliosi. Com'era stata Skypiea, com'era stata Ennis Lobby, com'era stata anche Thriller Bark per certi versi, nonostante alcuni errori. Però non penso, non penso proprio, è proprio un altro One Piece quello che stiamo leggendo, quindi io dico sempre le stesse cose. Con il Tempisc... Ma un altro One Piece in che senso intenderà rispetto al passato? Vabbè, che sia diverso in dubbio, no? Mi ha detto mille volte, cioè, alla fine è palese che sia cambiato... È cambiato... Però è sempre uguale, cioè... È cambiato ma è sempre uguale. C'è uno strano ossimoro qua. Nel senso, è cambiato rispetto al passato ma è sempre uguale rispetto al presente. È cambiato rispetto dalla Vasta, Skypiea, Water7, indubbiamente. Ci sono diversificate anche le situazioni, ovviamente. Non che io mi trovi... Cioè, preferisco anch'io il vecchio One Piece rispetto a quello nuovo, ma non tanto perché sia cambiato, perché alla fine è sempre lo stesso. Non è che sia diverso. È diverso quello che sta succedendo. Lo avete detto in mille volte. La prima parte del manga è veramente un'avventura in un mondo nuovo. Nel nuovo mondo, dove poi sembra veramente quasi uno scherzo del destino, è molto più vecchio come stile narrativo, perché c'è il cattivone grosso che è l'imperatore, Big Mom Kaido, e lì ti muovi, no? Tutto il movimento della trama è finalizzato per andare a battere l'imperatore. Cioè, già è Ghed, è già diversa da questo punto di vista. Poi, non mi è piaciuta particolarmente rispetto ad altre saghe, perché è stata scritta male sotto alcuni punti di vista, ci sono alcune cose che onestamente poteva gestirle meglio, però, a parte il volume 107 e il flashback di Orso, sono eccezionali, ci sono cose che poteva bellamente smaltire, fare un po' più brevi, cercare di accorparle, secondo me. Ma alla fine, credo che neanche adesso il Warland cambierà molto rispetto alla narrazione. Vedremo cosa fa, nel senso, è un po' difficile dirlo adesso. Ho visto persone già su YouTube che mi hanno scritto «Re, ma cosa ne pensi? Oggettivamente questi tre capitoli sono filler». E io ho detto «Ma come puoi definirli filler se ancora non hai visto tutto il resto?» Cioè, possiamo definirli filler se fra 30 capitoli, 20 capitoli, questi tre iniziali non servivano assolutamente a nulla per la trama. Allora dici «Vabbè, erano giusti introduttivi, un riempitivo, va bene, ok». Ma se tre ne ha fatti e tre ne abbiamo letti, è impossibile dire che questi sono filler se poi non sai a che cosa servono, dove andranno, a cosa porteranno. Potrebbe portare a qualcosa di interessante questa cosa, anche perché molti si sono focalizzati soltanto su Rod, sul fatto delle bamboline e tutto il resto. Però Rod dice che loro stanno in una prigione per giganti. Cioè questa cosa della prigione per giganti potrebbe essere interessante per essere sfruttata per qualcos'altro, ad esempio. Cioè, è presto per dire filler non è filler. Perché come cazzo fai a dire che è filler? Hai letto tre pagine, le avessi lette 50, ma le hai lette tre. Capiamo. Comunque sono d'accordo sul fatto che One Piece non cambierà. Su questo sono d'accordo con lei. Skip ha deciso di mettere tutto quello che aveva in testa riguardo il war building di questo manga e... Secondo me gli è sfuggita di mano questa bestia enorme, informe e adesso per gestirla si sta muovendo, sta correndo come un pazzo. E anche in queste saghe dove succedono tantissime cose, io purtroppo non riesco a farmelo andare giù. Quello che mi dispiace tanto è che si misura la qualità del capitolo con il numero di informazioni date. Però anche questa è una cosa che dico sempre. È stato un capitolo bomba perché Oda ci ha rivelato questo, questo, questo e questo. Sembra un bollettino di guerra. È vero, è vero. Oggi il bollettino ci dice che... Ah, bellissimo, dai, oggi abbiamo scoperto questo. Questa ragione. Ma non dov'è essere un telegiornale dove si scoprono i misteri del mondo? Io questo lo noto tantissimo, ad esempio, quando mi basta aprire la playlist del video di Egghead. Io poi, che ormai vi conosco mascherine, io so già come sarà il capitolo, da quanta gente viene alla blind. Guarda, adesso io probabilmente non vedo perché siete in miniature, però vi leggo. Poi potete vederlo anche voi, basta andare nella playlist. Il capitolo 1125 ha fatto 25.000 visualizzazioni, che era il capitolo con Imu che faceva morire Saturn. Quello successivo siamo quasi a 24.000, dove sono Shanks e Barba Nera, con Bartolomeo e Barba Nera che torna da Cinosù. Poi c'è l'inizio di Elbaf, sono circa 18.000, poi lo scorso capitolo, quello che viene mostrato il Dio del Sole, sono 14.000 e quello di ieri, spero adesso, sono 7.600. Sicuramente non andrà oltre quello della settimana scorsa, anzi, io temo e penso che sarà inferiore come visualizzazione, perché per il pubblico medio non è successo niente. Non è successo niente, quindi non va la pena approfondire, in realtà ci sono cose molto interessanti anche in questi capitoli, dove per il pubblico non è successo niente, ma comunque ci sono dettagli, situazioni, punti di vista interessanti da analizzare. E questo è, questo è quello che succede. Gli spoiler hanno rovinato l'esperienza della lettura del capitolo, a chi non riesce a filtrare bene le informazioni e godersi la lettura anziché un telegram malfatto. Ricordiamoci la porta con il segno Z. Esattamente, esattamente. Andiamo avanti. I misteri rivelati è anche una buona narrazione, la buona narrazione non c'è, ma poi mi sono scadute tante cose, i frutti del diavolo che ormai contano solamente se sono zuzu mitologici o ancestrali, questo è un peccato. I power leveling tutti assurdi, c'è, raga, anche nell'ultimo capitolo si è visto una roba che secondo me non sta né in cielo né in terra, però è una storia alla fine, quindi sapere le cose è buono. C'è quel proiettile, no? Che fa esplodere tu un pochino. Ah, parla di Yajah. Cazzo, è forte, scusa, ma sono troppo forti. Ma scusa, come facevano essere al pari degli altri imperatori o quasi? Sono troppo forti. È tutto sgravato, ma anche quando quel personaggio con una sola spadata distrugge un'intera shurma, ma come è possibile che sia così forte? Mi vuoi fare questa shurma potentissima perché... La shurma di Shanks è veramente sgravissima. Cioè va ben oltre, va ben oltre l'umano essere. Cioè Shanks sulla carta era l'imperatore meno forte. Cioè dalle informazioni anche che Oda stesso ci disse, cioè Kaido era il più forte, e Barba Bianca era l'uomo più forte nei tempi in cui chiaramente non era ammalato. Big Mom è letteralmente invulnerabile, tant'è che né Kaido né Big Mom sono caduti perché li hanno sconfitti fisicamente. Cioè Big Mom l'hanno fregata con gli risvegli, questa è caduta e finita dentro nella lava. E Kaido, praticamente, la sorta è stata più o meno simile, quindi si è fatto buttare giù dopo che questo gli dice, il mio sogno è questo qua, lui, uehi, attenzione, ambizione a go-go, joy boy, bim, e se ne va, insomma. Quindi, Shanks è, sì, fortissimo, è tutto quello che volete, però lo dipinge sempre molto più sgravo di quanto dovrebbe essere, secondo me. E come dice Blaster, morirà nel modo più stupido e becero, ci scommetto, perché è talmente forte che succederà questo. Infatti verrà, verrà caccato, verrà caccato da barbania. Devi andare verso la guerra finale. Ok, ma quindi tutto quello che ho letto, cioè, boh, poi magari, come dicono qualcuno, c'è la teoria che avevano riempito d'esplosivo e il proiettile serviva a far scattare l'esplosivo. Speriamo, speriamo. Il punto è che finché Oda non te le dice queste cose, tu puoi soltanto immaginare. Cioè, anch'io ho detto, vabbè, avrà caricato il proiettile di qualche cosa esplosiva, mettici dentro un po' d'ambizione, qualche cazzata di questo tipo, e boom, no? Cioè, fai un botto più grosso di quello che dovrebbe essere. Però se non te lo dice, lascia il tempo che trova. La spadata? C'è. Quindi non è che, c'è la spadata che sconfigge una persona che era, insomma, a combattere con un imperatore poco prima, mi sembra strano. Ma poi ragazzi, scusate, una delle cose che mi ha fatto capire che non sto più leggendo quel manga lì, provo a farmi capire senza spoilerare, ci hanno fatto un cazzo così con un personaggio, ok? durante la saga di Haggad, dove abbiamo visto il flashback, la sua trasformazione, senza virgolette, in tutti i sensi, il rapporto con la figlia, tutto super romantico, per carità. Ma, cioè, il finale di questi due personaggi è nell'ultimo capitolo. ma è una vignetta, due mi pare, piccolissime, sono contento, abbracciato, ma scusa, ma me la chiudi così? Ci sono rimasto malissimo, perché un rapporto del genere, Oda, tempo fa, l'avrebbe chiuso con, Dio Bono, violini, orchestre, cose, pianti, strepiti, qua. Questo è vero. È un peccato, proprio perché, effettivamente, dare tutto quello spazio, a Orso e Boni, giustamente, direi, con tutto lo spazio che Orso ha avuto, nel corso degli anni, era dovuto e doveroso, no? Dargli un senso. Io stesso, mi sarei auspicato, il fatto che, desse loro, avesse dato, a questo punto, avesse dato loro più spazio, nel finale, però sì, come dice Joe in chat, infatti, sarà arrivato proprio a questo punto, non è ancora finita, perché non ci sarebbe Lilith, e sono d'accordissimo, non c'è stato neanche il tempo, di dare a Orso, diciamo, una sistemata, rimetterlo in piedi, sono estremamente d'accordo, a questo punto di vista, infatti, credo che non sia ancora conclusa, la loro storia, e, diciamo che, è un po', costretta, per quanto abbiamo visto, nel capitolo, so così, dal 1126, penso, sì, 25-26, se no non mi ricordo più, perché poi è una striscia, ci sono loro che guardano l'orizzonte, no? Con Bonnie, che dice, finalmente, papà, siamo liberi, possiamo vederci l'orizzonte insieme, che è molto bello, ovviamente, qua c'è che nell'anime, daranno molto più spazio, questa parte, però è un po' costretta, c'è una bella paginetta, anche soltanto, come diceva prima, no? Con quelle splash page, molto bianche, pulite, c'è loro due, belli in grande, che si guardavano l'orizzonte, cioè spreca una doppia pagina per loro due, per chiudere comunque quel momento lì, e dare alla scena Bonnie-Orso qualcosa di molto più grande, che è semplicemente un pannello, metà pagina, di metà capitolo, quello forse era un po' troppo poco, quello era un po' troppo poco, qui, un abbraccino, abbiamo capito che ti fa schifo, puoi dirle tranquillamente, non ti arriva la polizia a casa, ma infatti, sto parlando tranquillamente, non so se hai notato Francesco, ma si chiama dibattere, si chiama esplicitare un pensiero, si chiama confrontarsi, non esiste solo, mi fa schifo, è un capolavoro, no, ci sono anche poi tantissimi sfumatori di ricerca, dove ci si può confrontare con le persone, anche con persone che pensa te, che la pensano diversamente da te, so che è un concetto astruso nel 2024, ma lavorandoci ce la puoi fare, comunque questo è, basta, io poi ragazzi non so, non so più che dire, cioè non, intanto è solo un disco rotto, capito, basta, boomer non c'entra niente, Riccardo, perché leggevo One Piece, quando te ancora eri nei pensieri, forse di babbo, prima che scappassi ovviamente di casa, e lo leggo dal 2001, avevo 11 anni, e soprattutto ho studiato fumetto, ho imparato a fare i fumetti, a cantattuano pettinato, mentre te scureggiavi in classe, mettendoti petardi in culo, quindi devi stare molto tranquillo, calmo, ma stai calmo tu, che sicuramente ne sei meno di me, e basta, questo è il mio pensiero su, su questa roba qua, ma non mi sembra chiusa, no aspetta, scherello, ovviamente sono sulla nave, succederà qualcosa, quello che dico io è che è chiuso il loro ritmo, lo ha disintegrato, Oda, che era romanticissimo, nella sua prima fase di carriera, gli avrebbe fatto riabbracciare così, ma questa roba qui, la vediamo da subito, dal, da quando rinizia il time skip, perché, io dissi, già ai tempi, oddio, c'è qualcosa che non va, e mi pare, lo disse anche sommobuta, quando si rincontrano, dopo due anni, non si abbracciano nemmeno, tutti insieme, prendono e partono subito, non si toccano mai, e ci sono pochissimi dialoghi tra di loro, c'è Zoro senza un occhio, senza un occhio, e l'unico dialogo che ha, riguardo questa cosa, è Sanji che parla con un cretino, e il cretino gli dice, ah, il pescatore, no, il samurai senza un occhio, e, poi, quando mi pare, vanno giù, a risolommi di pesce, c'è Rufi che si avvicina a Zoro, senza nemmeno sfiorarlo, sono tutti e due appoggiati alla banchina della nave, gli dice, ma allora Zoro, com'è andata in questi due anni? eh, tu sapessi, è così, ma, sono, probabilmente sono, c'è Robin che, dico probabilmente, perché c'è da dire probabilmente, sono dialoghi, che, però, in testa sua, erano futili, inutili, e quindi te li ha tolti, capace che magari, usando l'immaginazione, abbiano avuto momenti, in cui si sono raccontati, cosa è successo, cosa non è successo, però bisogna usare, bisogna usare l'immaginazione, dobbiamo metterci noi la pezza, e lo trovo ingiusto, onestamente, perché ci sono, sono quelle piccolezze, che, in una serie del genere, meritano, di essere approfondite, non dico che devi farci, un capitolo intero, ma, anche solo, lasciarti intendere, che loro si siano raccontati qualcosa, cioè, basta una battuta, tipo, ah, Zoro, bello, quella volta che mi hai raccontato, dell'occhio, cioè, detto anche così, a dress rosa, no? Cioè, metti i lufi, vede uno, senza un occhio, ah, Zoro, come te, come quella volta che mi hai raccontato, senza dirci, che cosa si sono raccontati, però, è quel tassellino, quella scemenza, che rende i personaggi, più profondi, più pieni, così sembrano veramente, dieci persone, che non si conoscono, si sono incontrate per caso, si sono fatte strada assieme, e poi si sono divise, e poi si sono rincontrate, ah, che bello, ciao, come va, andiamo di nuovo insieme, cioè, sono molto più, ciurma, i pirati di Teach, cioè, la scena in cui vediamo, Aokiji che racconta, del combattimento contro Akai, nua Teach, è molto più, più ciurma, della ciurma stessa, questa cosa è, è incredibile, secondo me, cioè, è molto più importante, il villain, che fa, come un L insieme, all'ultimo degli stronzi, trovato in un bar, con cui poi fa grande show, si bagnano, ridono, si raccontano, che è la ciurma stessa, perché i neri, veri protagonisti, veri protagonisti, Barba Nera, vero protagonista, assolutamente, e siamo arrivati a, 3.300 follower su Twitch, bene, sono molto contento, grazie a tutti, grazie a tutti, andiamo avanti, ciao mamma, c'è anche mia mamma in chat, salutiamo la mamma, ciao mamma, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, è stata accanto al babbo di Rufy, cioè, nemmeno Robin che fa, oh, lo sai che ha conosciuto tuo padre? E tuo fratello, no? voglia nascondere qualcosa, che forse c'è qualcosa sotto, ma è davvero stranissimo, stranissimo, quando prima parlavano un botto, i dialoghi tra Usop e Rufy, a Water 7, erano straordinari, straordinari, solo Nami e Usop si abbracciano, che Usop gli tira la testa nelle tette, minchia, cioè, ma, quando Rufy e Usop si, si confrontano su cosa vuol dire essere un pirata, su cosa vuol dire, ma anche il dibattito, che hanno a Sabaudi, su Reli, che gli vuol dire le cose, Rufy non vuole saperle, Usop invece sì, cioè, sono confronti fighissimi, non ci sono più, è vero, Frankie sembra che si, dopo essersi rifatto tutto completo, senza, sembra essersi rimosso il cervello, e l'ho botomizzato, prima Frankie era un personaggio super coinvolto emotivamente, tantissimo, l'unica volta dove lo vediamo emozionarsi per qualcosa, seriamente, cioè, è qua col signor Pink, e anche lì ha incontrato finalmente il suo eroe, lo ha lì, con lui, però non abbiamo visto ancora un dialogo sensato tra i due, e lui non si fa, è urlare, tirare fuori le moto, quella roba di Vegapart, ne avevamo parlato, se non mi ricordo, forse, non mi ricordo, durante il tea party, non mi, non, non, non ricordi, troppa roba, però effettivamente la roba di Frankie è terribile, che è stato, sull'isola di Vegapart, anche ha studiato, e poi arriva e, non gli chiede niente, cioè, va bene che non c'è stato neanche, forse neanche il tempo, ma no, però cazzo, è lì il tuo, il tuo, non neanche il tuo idolo, perché, non lo conosceva fino a due anni fa, però, c'è stato due anni in casa, ha studiato tutta la sua roba, di fatto è diventato il suo, il suo benefattore numero uno, perché gli ha permesso, di ricrearsi, e di potenziarsi, poi vai a scoprire pure, che Frankie, è il figlio, forse, di, di Queen, e dice, ma cazzo, perché tutta sta roba, cioè, è terribile, è terribile, cioè, Frankie è diventato di una marginalità estrema, era, quel gangster, imbruttente, che aveva sempre, la, 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 la soluzione pronta, con, con la risata, poi, no, io, la fine One Piece, sapete, a me piace da matti, mi diverto, però, è, è inutile, far finta, che non ci siano, problemi, che poi non sono problemi, è che ha scelto, di, scriverlo, in maniera diversa, ha, tralasciato cose, per, dare spazio ad altre, purtroppo, questo significa, che magari è più veloce, riesce a sfruttare più il tempo, ma mancano quelle cose, che un tempo erano parti fondamentali, cioè, la ciurma è fondamentale, la ciurma è rimasta quella che era, alle Sabaudi, fondamentalmente, cioè non c'è stata un'evoluzione loro, al di là di Sanji, Sanji è l'unico che, effettivamente ha avuto, quella crescita, anche dovuta al trauma, con i genitori, con la famiglia, e tutto il resto, che abbiamo approfondito all cake, gli altri sono ancora là, sono i personaggi, visti alle Sabaudi, dopo il timeskip, fannoni, le osi, quando prima era super coinvolto, Chopper, stendiamo un velo pietoso, è morto, era il, Chopper è il personaggio dei ciliegi, ragazzi, di Drum, della promessa fatta a dottor, Irka, il Ruruku, chiamatelo come volete, ma dov'è? Ma che diventa, cos'è? Raga, ma voi vi ricordate, ne parlavo l'altro giorno, non mi ricordo con chi, ah, Mario, qual è uno dei tuoi scontri preferiti? Io ho citato uno scontro, che non cita mai nessuno, ma vi ricordate lo scontro, ad Alabasta, di Chopper e Usop in combo insieme, Bellissimo, bellissimo, con Mr. Four, c'era Usop completamente irragnato senza denti, col naso spaccato, tutto storto, con gli occhi bianchi, perché era vicino alla morte, Usop riesce a dire, hai fatto un errore, quello che dimentichi, è che le buche della talpa, sono tutte collegate tra loro, e scoppia tutto in aria, ed era fighissimo, perché anche a Thriller Bark, la tanto vituperata Thriller Bark, quando incontrano Perona, sono cazzi, sono cazzi, perché Perona sconfiggerà anche i mostri, ovvero Zoro, Sanji, Rufi, perché quei cazzo di fantasmini, li annientavano psicologicamente, e quindi era bello, perché Oda trovava, degli incastri, che tu non ti aspettavi, perché Perona, c'era il bello, il bello ecco, diciamo questa cosa, la cosa bella del One Piece, prima del Lucky, perché poi diciamo che il problema sorge in questo caso, proprio per l'introduzione dell'ambizione, è che per battere un frutto, dovevi trovare l'inghippo, dovevi trovare l'espediente, dovevi trovare la soluzione logica, scientifica, ma anche magari più emotiva, come nei confronti del frutto oro oro di Perona. Adesso basta l'ambizione, e tutto si è sistemato, con una telefonata. Quindi, ragionando sul ciò che oggi, Oda ci ha definito i frutti, con la nuova introduzione lì, della definizione di Vegap, alla sua teoria, che i frutti sono le evoluzioni dell'umano essere, in base a ciò che hanno immaginato, un tempo, chissà chi, chissà come, chissà quando, questo vuol dire che comunque sono difettosi, nel senso, io posso immaginarmi, io che volo in mezzo al cielo, no? Ok, quindi, puff, mi spunta il frutto che mi permette di volare. Però questo, chiaramente, ha dei limiti, cioè la fantasia, va a quanto sia illimitata, ha dei limiti, il limite della fantasia è la persona che, vede questa immagine, pertanto il frutto che sorge con questo, questa immaginazione, può avere dei limiti. Il limite del frutto di Perona è che, sì, ok, io posso immaginarmi di avere il controllo sulle emozioni negative delle persone, con questi fantasmini, cioè lei crea i fantasmini perché è la sua, è la sua immaginazione che poi plasma questo potere, questa forma di fantasmi. Perché il frutto di sé per sé è il frutto vuoto vuoto, holo holo, è holo holo, quindi è il frutto vuoto vuoto, cioè lei crea il vuoto, cioè ti toglie, ti rende vuoto, lei crea la depressione, di fatto, ti deprime, e lei dà forma a questa depressione tramite i fantasmi, quindi è la sua immaginazione che plasma il fantasma. Ma nel momento in cui formula, non so, la formula per creare questo frutto, colui che si è immaginato questo frutto, voleva magari deprimere le persone per fare del male, o che cosa ne so, non ha minimamente pensato che ci sono quelli che sono depressi per natura, che sono tristi, che sono infelici per natura, come Usopp. e quindi automaticamente, trovandosi di fronte a Usopp, hai il tuo nemico naturale, perché non hai pensato a questa possibilità. E questa è la genialità del frutto del diavolo, che aveva un tempo, il frutto di Enel, il frutto del gorogoro, il frutto del fulmine, in un mondo dove di fatto poi, non so, la plastica, la gomma, sì, c'è fino a un certo punto probabilmente, ma non si è mai vista nemmeno la gomma, ha come nemico naturale poi, il Nika, il Nika che ha la caratteristica naturale di essere come la gomma, perché colui che si immaginò il fulmine, ma vai a pensare di avere contro uno che è fatto di gomma, ma non ti verrebbe mai in mente, infatti Robin diceva che il frutto della gomma, della gomma dell'elettricità, era il frutto definitivo, il più forte di tutti, una cosa di questo tipo, però ha un gap, la gomma, cioè queste cose qua sono fighe, adesso se tu vai contro Enel, gli tiri un pugno con l'ambizione, allo sgenji, finito, è finita la storia di Enel con un pugno, non c'è più la roba di strategia, oddio, ma anche bucio del culo, davvero il frutto della gomma, e questo è un peccato, questo è un peccato secondo me, questo è un peccato che si è perso, si è perso tutta sta roba. Chi lo può sconfittere solo a Usopp, perché è già distrutto di suo, e allora... leggo un attimo un commento di Karma in chat, ho sempre trovato che parte del problema sia dovuto al fatto che i Logia senza Haki erano troppo OP e ingestibili, e per bilanciarli Oda ha dovuto ulteriormente sbilanciare il battle system. Sì, però sai, i Logia sono 4-5, cioè se ne sono 10 forse di Logia, nel momento in cui con Crocodile riesci a trovare l'espediente, che è l'acqua, con Enel che è un Logia hai la gomma, e hai un secondo espediente, vuoi non trovare un espediente per battere il gelo-gelo di Aokiji, per battere... Cioè, Kizaru, banalmente, io me lo sto immaginando, un'idiozia di questo tipo, se tu lo porti in una stanza buia, non c'è più luce. Quindi magari, nell'ottica del gioco di One Piece, qual è, dove la fisica, sì, fino a un certo punto vale, lo porti in una stanza buia, e non puoi più usare il frutto. Ok? Come fa il magma? Ma il magma lo devi bagnare, si indurisce. La roccia, come funziona la roccia, quando è erutta un vulcano? Al momento in cui sta a contatto con l'aria fredda, o con l'acqua, si solidifica. Quindi, se tu riesci, in qualche modo, con Akainu, a bloccarlo, a generare qualcosa, in modo tale che tu lo blocchi lì, vuoi non riuscire a batterlo? In qualche modo. Cioè, poi non devo essere io a inventarmi i modi in cui gestire le cose che fa Oda. Questo dovrebbe farlo lui. Dovrebbe farlo lui. Non io. Io non sono un mangaka, non sono uno sceneggiatore, non sono un fumettista, non sono niente. Sono semplicemente uno stronzo che legge un fumetto. Quindi, penso che, nella sua immensa fantasia, poteva trovare una soluzione, senza dover introdurmi, l'ambizione, con la tonalità degli armamenti, che va a toccarmi il corpo fisico dei fruttati, altrimenti non riesco a battere un roghi. Loro tre gli dicono, ci affidiamo a te. Cioè, la sciurma di Rufi era quella che quando Usopp veniva toccata, andava a distruggere. Pier, ma se il pubblico è stupido, non è un problema mio, capito? Vedere questi incastri. Ora, gli incastri sono tra spadaccini, tra gente si pigliaccarci, e tra gente con poteri assurdi. Questa roba di Usopp, spettatore, di Usopp, che riesce a farcela, perché con il coraggio e con l'intelligenza, riesce a venire a capo in un mondo di mostri, sparì. Non c'è più. Cazzo, fagli almeno spegnere l'incendio. No, arriva Jimbe, pugno spaccategole e spegne l'incendio. Non è riuscito nemmeno a far quello. Faccia le armi. Ora a cosa servono? A cosa servono che Nami ha preso il potere di Big Mom? Che armi gli fai? A posto. Perché secondo te? Perché ha messo, ragazzi, ma quanti personaggi ci sono a Wano? Quanti? Infiniti? I foderi rossi. E quell'altro rincoglionito come cazzo si chiama e... Comunque io non voglio non voglio criticare nessuno ma lo farò lo stesso. Leggo i commenti in chat di Dario ma sono imbarazzanti. Ma che cazzo di cosa gli chiede? Cioè lui sta parlando di One Piece, no? Quindi sta parlando di un argomento che può o non può interessare per carità. Però sta parlando di un argomento e la gente dice ma tu giochi a Crash Bandicoot? Ma che cazzo ti salta in mente? Cioè questo Mike sta parlando di pennarelli e uno dice ma che ne pensi della fisica quantistica? Cazzo ma fammi finire il discorso, no? Cioè ma sarai deficiente. Comunque tutta la sciurma di Kaido tutti gli smile di Kaido tutti i personaggi secondari e la vecchia e il babbo e la moglie Sì sì io gioco Resident Ma poi complicatissimo anche la mappa di One gigantesca ogni due per tre disegnava la mappa perché non ci si capiva più una sega i monster Grazie grazie E quindi i personaggi del genere vengono assolutamente messi da parte e poi mostri del genere possono affrontare solo i mostri uso per ciopper in quel contesto non serve proprio a nulla Ciopper lo usano perché deve curare Cioè Zoro che è sfatto come si fa? Come si fa? Le bende Cioè io ragazzi mi spiace Con la pasticca infernale Ma secondo me quello serve per farci capire Cioè una mossa come Fata Morgana di Nami non la vedremo mai più secondo me perché Fata Morgana era una roba super strategica Cioè te sconfiggi sta donna potentissima con gli inganni era una strega Nami era fighissimo per questo era proprio una strega cioè usava i poteri magici con il meteo e tutto che poi il meteo sembra un po' una magia per i primitivi era un po' una magia degli tei e ora c'ha Zeus dove vai? Dove vai? Cosa fai con Zeus? Dei disegni ormai non parlo manco più ragazzi cioè è facile parlare dei disegni cioè veramente sparare sulla croce rossa è una roba terrificante sai i disegni lasciano poco spazio all'interpretazione alla paraculata cioè i disegni si fanno schifo fanno schifo lo vedi lo senti e quando in un capitolo ormai si è operata all'occhi ha fatto tutto il riposo quello che voleva vedi ancora la matita manco cancellata e su questo qua qui si apre uno scenario distruttivo nel senso intanto ringrazio vedvisir vecchio cuore che si è che si è abbonato grazie mille fratello benvenuto ricordo agli abbonati che possono fare punto esclamativo sub e se hanno i messaggi privati attivi da sconosciuti vi arriva il messaggino di streamyard di streamlabs con il link per il gruppo telegram che stavo dicendo ah si nel senso il capitolo 1127 dove c'erano tutti quegli errori abbiamo parlato anche nel deep l'altra sera è imbarazzante cioè veramente non so più cosa pensare riguardo questa cosa cioè non c'è più controllo non c'è più nessuno che dica a quest'uomo guarda che stai sbagliando guarda che qua devi rifarlo cioè dov'è il servizio d'ordine nello studio di Oda dove è finito dove è finito il servizio d'ordine cioè non riesco non riesco proprio a capire non riesco proprio a capire che cosa succeda perché poi per carità va bene One Piece comunque vende viaggia stiamo arrivando alla fine tutto quello che volete però perdersi veramente sui dettagli adesso che sei un mangaka affermato che stacco che tu sia può anche disegnare peggio va bene cioè d'accordo può aver cambiato tratto posso ancora accettare che sia confuso che non disegni più come un tempo cioè per carità ma l'errore no l'errore no l'errore no non c'è l'errore la svista sì ma gli errori di tutti quegli errori nello stesso capitolo no 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 ma non è vero quando vuole disegna bene ma cosa vuol dire Alessandro scusami cosa vuol dire quando vuole devi disegnare sempre bene sei il manga più venduto del mondo cazzo da te dipendono 400.000 aziende è il suo lavoro minchia che poi lui sappia disegnare in dubbio cioè basti vedere dei dettagli le cose cioè veramente disegna molto bene Oda però poi non lo fa se sei stanco fai il modo di lavorare meglio e non di più e peggio sì quello è vero Carmine ma piuttosto vedi piuttosto io preferirei che One Piece durasse 4-5 anni di più ma che lui si prendesse un mesetto di pausa ogni 2-3 mesi cioè ti fai 3 mesi di narrazione fai 3 capitoli 3 capitoli 3 capitoli con la pausa classica ogni 3 capitoli e poi si prende un mesetto di stop così ci riposa cioè lui deve riposare però non è che deve stare lì andare avanti farsi 10 capitoli per portarsi avanti deve riposare ti deve riposare cioè è quello il punto se non vuole riposare farsi un mese di pausa che se ne faccia due settimane e poi le altre due magari disegni i capitoli con più calma cioè magari sarebbe anche più bello vederlo One Piece perché mi sei venuta fuori la la barra delle idee io faccio bene sennò non mi rompete il cazzo ma che vuoi dire e qua è finito ora ci vediamo l'altro che è più corto però sono d'accordo nel senso sul disegno il disegno è un peccato perché lui sa molto sa disegnare molto bene e lo ha fatto vedere tante volte ma anche recentemente delle splash page bellissime veramente incredibili ci sarà la possibilità che sia scocciato e ormai no io credo di no Caio perché è innamorato folle del del suo manga su quello non ci sono dubbi lui è innamorato folle del suo manga il problema è che ha dei tempi molto veloci cioè comunque non è da tutti tenere botta per 27 anni con un settimanale dove di fatto non ha mai mancato una settimana se non quando si è ammalato o gli hanno dato le ferie per forza perché quello è successo però l'ottica di un prodotto di questo tipo potrebbe anche valer la pena farlo bisettimanale ci metti un po' più tempo riesci a smaltire le cose non lo so nel senso alla fine tanto 30 capitoli all'anno fa quindi capiamo cioè se dividi le settimane dell'anno ti viene fuori 26 cioè 26 capitoli in un anno li fa ci può anche stare non me ne fai 30 come ne fai ne fai 26 però ti prendi due settimane per capitolo almeno lo disegni bene ci metti la cura non stai lì a fare le corse ma vabbè tanto questo è e questo ci teniamo insomma andiamo avanti